Sicuramente è stata una partita già fin dalle prime battute abbastanza difficile, soddisfazione tanta per il gol, peccato perché ci è sfuggita una vittoria che nonostante tutto poteva essere alla nostra portata. Mi dispiace per come è avvenuto il pareggio, però diciamo che abbiamo continuato la nostra striscia positiva e andiamo avanti, soprattutto c'è stato magari un po' di superficialità, però ti ripeto andiamo avanti perché la strada è quella giusta.